Ciao amici, oggi sono felicissima di dirvi che il mio ebook non in solito oroscopo è finalmente disponibile sul mio sito e su amazon come gli altri miei libri. Hai detto oroscopo ma non sei una naturopata? Ho detto oroscopo e sono una naturopata, ma sono anche una studiosa di astrologia fin da quando ero ragazza. Ho iniziato con l'astrologia vedica o karmica quando vivevo in India, ho studiato lì da giovane e poi mi sono appassionata a quella occidentale, alla nostra astrologia. E come sapete da ben sei anni condivido con voi la mia esperienza scrivendo di astrologia sul mio sito ogni mese, ma non il solito oroscopo. Vale la pena leggerlo. A chi pensa che gli oroscopi siano una cavolata e che non ci azzeccano rispondo che è vero se si pensa agli oroscopi predittivi che pretendono di dirci cosa succede giorno per giorno, ma non è vero se si considera il vero scopo dell'astrologia che non è predire il futuro. Il vero scopo dell'astrologia è darci gli strumenti per affrontare il nostro presente. E che differenza c'è? Enorme! L'oroscopo predittivo ti dice che succederà questo, questo e questo, punto. Previsioni finite, non c'è dialogo. Nel mio non solito oroscopo invece ci sono le risposte ma anche le domande. Non sarebbe bello avere una mappa attendibile e precisa che ci aiuti ogni giorno a navigare tra le pieghe della vita con una guida precisa? Un Google Maps per i guai che mi piovono addosso ogni giorno? Ah beh, quelli sono imprevedibili. Ogni periodo dell'anno porta un clima diverso per ogni segno zodiacale. E se il meteo anticipa il tempo atmosferico, cioè il clima del nostro pianeta Terra, perché non dovrebbe esserci una scienza che anticipa il clima dato dai movimenti di tutti i pianeti e l'influenza che avrà sulle nostre vite? Per esempio in certi periodi il clima è più complesso e richiede maggiore attenzione rispetto ad altri periodi. In altri momenti invece il sole astrologico splende e possiamo goderci la vita a leggeri dispensierati al 100%. Il mio ebook è utile per capire meglio se stessi e le proprie reazioni nei diversi momenti climatici e le varie sfide della vita. Per ogni segno zodiacale ho descritto le migliori qualità su cui fare leva per ottenere il meglio dalla vita nei diversi periodi dell'anno. Ecco una breve anticipazione di quello che trovate nel mio ebook che vi spiegherà perché si chiama non il solito oroscopo. Introduzione al 2020 che sarà un anno speciale tra l'altro l'inizio di una nuova decade di un nuovo decennio è un passaggio che porterà cambiamenti importanti per tutti anche dal punto di vista del movimento dei pianeti e se saremo preparati potremo coglierli e renderli ancora più positivi. Altro argomento la descrizione dei segni come cardinali fissi e mobili qual è il loro significato da questo punto di vista e quali sono le loro caratteristiche migliori. Consigli speciali per ognuna delle tre decadi di ogni segno. L'oroscopo completo che riguarderà lavoro, le qualità da coltivare e da lasciare andare, i rapporti di lavoro, quando fare attenzione e quando invece premere l'acceleratore. Amore. Per le coppie e per i single. Punti delicati e come porsi interiormente se la relazione è difficile e cosa fare per tenerla unita o per separarsi senza strascichi interiori. Quali segni sono favoriti per stare insieme in armonia e quali invece evitare che è meglio. Ma non solo, anche le qualità da esprimere per vivere al meglio i rapporti in famiglia con i genitori, i figli, i parenti. Ovviamente l'oroscopo della salute. I miei consigli speciali sulle strategie e i rimedi naturali per mantenersi in salute tutto l'anno e soprattutto nei periodi delicati. E quest'anno ho aggiunto l'oroscopo karmico. Karmico? Ci parli di karma? Significa qual è il senso del segno nello zodiaco e il suo ruolo nella vita. Come realizzare la propria crescita interiore e ottenere la vera felicità? Come capire il proprio karma attraverso la storia mitologica e la simbologia del segno? E quali sono gli influssi cosmici e spirituali da sviluppare in questa vita in base al segno? E' tanto tanto altro davvero speciale, unico e secondo me anche indispensabile. Ma per saperne di più è facile cliccate sul link in descrizione o sulla piccola i qui in alto e poi potrete ricevere l'ebook in formato digitale così lo avrete sempre con voi sul cellulare e potrete leggerlo quando volete. Ci tengo davvero che possiate leggere questa visione planetaria astrologica della vita. Io ci ho messo il cuore e ho pensato a voi quando scrivevo. Nei periodi incerti come questo che stiamo vivendo un po' tutti è indispensabile avere una guida e l'astrologia karmica per me è sempre stata molto valida. Quindi se potete leggete questo libro e condividete questo video per coinvolgere anche tante altre persone. Noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo ma sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente e astrologicamente. Ciao! Buon morcerà la salute della gente. In salute ogni clima dell'anno.